E' vero che l'invasione dell'Ucraina sembra smentire il fatto che la libertà dei commerci riduce i rischi di guerra, però dobbiamo anche riflettere che cosa sarebbe successo se non ci fosse stata questa globalizzazione. Oggi queste guerre che noi abbiamo sono ancora guerre locali, compresa quella dell'Ucraina, alla quale noi diamo supporto all'Ucraina evidentemente per tutta ragione, ma è ancora una guerra locale, non siamo finiti in una guerra di carattere mondiale e io credo che questo dipenda anche dagli scambi internazionali che ci sono. Io sono Giuseppe La Terza e questo è Radar, un podcast degli editori La Terza. Radar è una serie di conversazioni settimanali sulle questioni essenziali del nostro tempo, ogni volta in compagnia di un esperto per cercare di andare in profondità, rimettere ordine e orientarsi. Mentre il mondo, o almeno il mondo occidentale, sta uscendo faticosamente dalla pandemia e pensavamo noi europei di riprendere nel 22 il cammino della crescita, il 24 febbraio la Russia ha invaso l'Ucraina. Eravamo convinti che non succedesse anche quando c'era un dispiegamento di forze e forse uno dei motivi per cui lo ritenevamo è che ci affidavamo a una parola forse abusata in questi anni che è globalizzazione, cioè il fatto che da ormai molti anni, da decenni, i mercati mondiali sono connessi tra loro in maniera molto forte, con interessi globali, con interessi reciproci e con effetti anche sull'aspetto militare, voglio dire, secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, la spesa militare si è ridotta addirittura del 50% negli ultimi 50 anni. Eppure la Russia ha invaso l'Ucraina e le conseguenze di quello che è successo sono molto importanti non solo dal punto di vista militare e geopolitico, ma anche dal punto di vista economico, conseguenze che rischiano di andare avanti nel tempo, posto che la stessa guerra non è quella guerra lampo che forse Putin pensava e sperava, ma una guerra che produce grandi cambiamenti nelle alleanze militari, nelle alleanze politiche, c'è una questione che riguarda l'ampliamento della Nato, ma anche conseguenze economiche molto rilevanti. E torna il tema della globalizzazione, rimarrà, ci sarà una minore globalizzazione o addirittura finirà o ci sarà una globalizzazione selettiva per aree con conseguenze molto rilevanti in tutti i casi sulla nostra vita quotidiana. Per ragionare su questo abbiamo invitato una persona che da molti anni riflette su questo tema e è stato anche uno dei protagonisti del mondo economico italiano e anche nella gestione, che è Innocenzo Cipolletta, economista, manager, per molti anni direttore di Confindustria e poi al vertice di aziende importanti come le Ferrovie dello Stato, Marzotto, e che oggi ha una serie di incarichi importanti di vario tipo, tra cui mi piace ricordare quello dell'Associazione Economia e della Cultura, perché Cipolletta si è sempre occupato molto del rapporto tra queste due sfere. Cipolletta è autore anche di vari libri, tra cui per la terza La responsabilità dei ricchi dal protezionismo alla solidarietà e nel 2014 un libro provocatorio nel titolo già in una serie che si chiamava così falso, punto esclamativo, il suo si chiamava paghiamo troppe tasse, falso. Poi proprio un anno fa è uscito un libro quasi profetico di Cipolletta che si chiamava La nuova normalità, istruzioni per un futuro migliore. Un libro che a rileggerlo oggi fa molta impressione perché ci descrive un futuro che passa attraverso una concatenazione di crisi. Ci torneremo alla fine, ma la prima domanda che vorrei fare, in un senso Cipolletta, è di dirci molto in breve, quando parliamo di globalizzazione cosa intendiamo? Ci dai un po' il contesto di questa parola? Innanzitutto buongiorno Innocenzo. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Globalizzazione è una parola che ricorre nella storia economica, nella storia politica dei nostri paesi perché fa rima con internazionalizzazione, multilateralismo, cioè significa che i paesi cominciano ad aprirsi agli scambi con gli altri paesi sia di persone, sia di merci, sia anche di capitali e si inizia a ragionare in termini di rapporti multilaterali, cioè non più rapporti fra due paesi che si mettono d'accordo su che cosa scambiarsi e come organizzarsi, ma un sistema dove se io apro a un paese sono tenuto ad aprire a tutti quanti gli altri paesi alla stessa maniera. Questa è stata la grande innovazione, soprattutto del dopoguerra, ma direi soprattutto dagli anni 70 in poi, che ha favorito una crescita dei commerci e degli scambi, ma anche delle relazioni interpersonali, della conoscenza, della cultura e che noi abbiamo chiamato globalizzazione, soprattutto quando è caduto il muro di Berlino e l'Unione Sovietica si è praticamente sfaldata in diversi paesi che hanno aderito poi all'Europa e alle condizioni dei mercati liberi e poi soprattutto quando la Cina, dopo l'esperienza di Mao Zedong con la scelta di aprirsi ai mercati, è entrata il VTO, ossia nel World Trade Organization, aderendo quindi alle regole del commercio. Questa è stata la globalizzazione che è andata avanti per qualche decennio, incontrando poi delle difficoltà, di cui oggi ne abbiamo un po' le conseguenze. Ecco, questa globalizzazione che tu hai descritto in maniera molto efficace, era stata già messa alla prova in un certo senso dalla pandemia, cioè quando subiamo le conseguenze di un virus che si diffonde in tutto il mondo, per certi versi dovremmo imparare uno dall'altro e dovremmo gestirlo insieme e l'abbiamo fatto in parte, per certi versi però questo shock così forte viene gestito da ogni paese in maniera diversa. C'è già in quel momento secondo te una prima questione che investe il processo di globalizzazione, quando tu scrivi appunto la nuova normalità di cui forse è bene che ci ricordi il perché del titolo. Che cosa è questa crisi continua che descrivi nel libro? Dunque la globalizzazione in realtà dicevi sui primi colpi essenzialmente a mio avviso proprio all'inizio del millennio che stiamo vivendo con l'attentato alle due torri gemelle e agli Stati Uniti d'America. Quella che è stato un evento di terrorismo ha cominciato a obbligare i paesi a fare maggiori controlli che ancora tutt'oggi sussistono. Quando si prende un aereo e si passa attraverso un metal detector, bisogna mostrare la propria identità, ci deve essere corrispondenza tra il nome del passeggero che sta sul biglietto e il suo passaporto. Tutte cose che prima non esistevano, prima si andava tranquillamente, si saliva, si poteva addirittura scambiare un biglietto con una persona o con un'altra, nessuno controllava i bagagli e quant'altro. Questo ha cominciato a mettere già alcuni paletti perché alcuni Stati sono considerati Stati che ospitavano il terrorismo e quindi erano messi in qualche maniera a guardare. Ma il colpo forte alla globalizzazione non viene dalla pandemia, viene dalla crisi finanziaria del 2008. Con la crisi finanziaria del 2008, che fu una crisi molto forte, tant'è che addirittura la caduta del prodotto interno lordo del 2008-2009 ha superato quella che era stata la grande crisi del 29. E quindi è stata una recessione fortissima che ha interessato tutto il mondo. A partire da quel momento molti Stati hanno cominciato a dire che bisogna fare degli interventi per difendere l'occupazione e difendere l'occupazione significa proteggere le proprie imprese e cominciare a dargli sussidi da un lato, nazionalizzarle per evitare che vengano perse e cominciare a chiudersi rispetto a quelli che sono gli altri paesi. E questo è avvenuto nei paesi più liberi del mondo, cioè gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito sono quelli che hanno in qualche maniera infranto le regole del mercato e sono entrati, gli Stati Uniti d'America nell'industria automobilistica, ce lo ricordiamo, e il Regno Unito nel sistema bancario e anche gli Stati Uniti d'America nel sistema bancario evidentemente. E così abbiamo fatto un po' tutti quanti noi. Quello è stato il germe della frattura della globalizzazione. Poi è avvenuto l'era di Trump nel 2017, quando è stato eletto e Trump, ce lo ricordiamo tutti quanti, penso ha di fatto contraddetto tutti gli accordi di liberalizzazione che erano stati condotti fino a quel momento, sostenendo che gli Stati Uniti d'America erano vittime di questi accordi e quindi ha cominciato a minacciare dazzi e chiusura alle importazioni del Canada, del Messico, dell'Europa, della Cina, del Vietnam, dell'India, di tutti quanti i paesi con i quali voleva ristabilire un rapporto di carattere bilaterale. Questo è stato il colpo più forte, la condanna del multilateralismo che secondo Trump aveva danneggiato gli Stati Uniti d'America e il ritorno al bilateralismo, un bilateralismo dove ovviamente il paese più forte, gli Stati Uniti d'America erano capaci di imporre le proprie condizioni. Questo è stato un trauma per i processi di globalizzazione e tutti quanti noi speravamo che una volta superato Trump le cose, non dico tornassero come prima, ma insomma migliorassero e invece lì è intervenuta come hai ricordato la pandemia, la pandemia ha di nuovo fatto crollare l'economia, ha di nuovo imposto agli Stati di intervenire per proteggere le proprie aziende e per salvaguardare l'occupazione, ha rotto una quantità di filiere che si erano stabilite quando ci si è resi conto che per salvaguardare gli interessi nazionali i paesi riservavano al proprio interno quelli che erano alcuni prodotti di forte utilizzo durante la pandemia, dalle banali mascherine che non si trovavano più, ai respiratori fino alla ricerca per i vaccini che cominciavano a essere trattati nazionalmente piuttosto che internazionalmente. Questa pandemia l'abbiamo superata anche grazie a un certo sforzo di collaborazione internazionale, ma è stato uno sforzo di collaborazione internazionale molto regionale. L'Europa si è fatta le sue difese, i paesi si sono organizzati per comprare i vaccini tutti quanti assieme, gli Stati Uniti d'America hanno fatto le loro scelte, l'Asia ha fatto le loro scelte, ci siamo indirizzati verso un processo di regionalizzazione della internazionalizzazione, non tanto un'apertura multilaterale a tutti quanti i paesi, ma ognuno nel proprio contesto dove si sentiva più difeso. Poi è intervenuta la guerra in Ucraina di cui purtroppo non abbiamo ancora le conseguenze e questo fenomeno del colpo alla globalizzazione si è così in qualche maniera diventato ancora più forte. Mi chiedevi prima che cos'è la nuova normalità e con quello che ho raccontato questa è la nuova normalità. Se teniamo conto che nei primi 22 anni di questo secolo noi abbiamo avuto almeno in questo punto 4 se non 5 eventi di carattere straordinario, eventi che si sono prodotti in qualche parte del mondo ma che si sono estesi con estrema rapidità in tutto quanto il mondo e questo è quello che succede quando i paesi sono aperti. Se i paesi sono aperti quello che succede in un angolo sperduto del mondo ha tendenza a ripercuotersi su tutti quanti e questo è la nuova normalità in qualche maniera, cioè un rischio, una possibilità di crisi e di eventi che possono prodursi e tutti sono stati di natura diversa l'uno dall'altro. Ricordo che abbiamo cominciato con il terrorismo poi con la crisi finanziaria, quindi con l'avvento di un personaggio poco democratico come è stato Trump e poi la pandemia, poi abbiamo avuto adesso la guerra in Ucraina e domani chissà che cosa potremmo avere. A fronte di questa situazione i paesi cercano di essere resilienti, questa è la nuova parola, il nuovo dogma, cioè non c'è la possibilità di prevedere questi eventi, però sappiamo che se siamo forti, se rafforziamo le nostre strutture possiamo resistere agli eventi, li possiamo in qualche maniera banalizzare e questa è un po' la ricerca e questo è anche quello che l'Europa sta cercando di fare con il piano della Next Generation Europe che è un piano per rafforzare le strutture dei paesi europei affinché siano più forti e resistano alle prossime crisi senza che noi sappiamo quali possano essere. Sì, dunque tu hai messo tanta carne al fuoco e l'ultima parte del tuo discorso accena a una questione che ti vorrei porre alla fine e cioè se poi non sia necessario in qualche modo per salvare il buono della globalizzazione governarla di più in forme complesse. Però una delle questioni che hai sfiorato è importante, vorrei che tu ci dicessi qualcosa in più perché tra l'altro al centro dell'edizione del Festival di Economia che si chiama Festival di Internazionale di Economia che si tiene a Torino diretta da Tito Boeri di cui tu insieme alla casa editrice sei stato uno dei promotori fin dal 2006 che è la questione delle diseguaglianze. La globalizzazione, lo hai scritto anche nel libro sulla nuova normalità, ha generato insieme riduzioni diseguaglianze per esempio tra i paesi cosiddetti in via di sviluppo e i paesi più ricchi ma anche all'interno dei paesi maggiori diseguaglianze e questo è legato a quei fenomeni di scontento della globalizzazione come Trump, come altri partiti sovranisti di cui fai scenno. C'è secondo te questa relazione? Come si è sviluppata negli anni? Sì, purtroppo c'è. Diciamo che ogni medaglia ha il suo rovescio, quindi se la globalizzazione ha avuto degli effetti positivi ha avuto anche dei risvolti di carattere negativo. Usando un'espressione di Donny Roddick c'è stato un processo di integrazione internazionale in un processo di disintegrazione nazionale e questo è derivato sia dalla globalizzazione che da un fattore che ha permesso la globalizzazione che è il progresso tecnologico, perché non ci dobbiamo dimenticare che accanto agli eventi politici che hanno portato alla internazionalizzazione dell'economia un fattore di grande rilevanza e spessore è stato il progresso tecnico. Senza il progresso tecnico è esploso negli anni 70 dopo la prima crisi del petrolio, cioè l'era del digitale, noi non avremmo potuto avere questi processi di globalizzazione. Il digitale ci ha consentito, come è stato detto a lungo, di superare i problemi di spazio e di tempo e quindi di mettere in connessione paesi lontanissimi allo stesso momento e questo ha consentito di creare delle filiere produttive, degli scambi e ancora oggi uno scienziato degli Stati Uniti d'America può dialogare tranquillamente con un cinese, con un russo o con un francese se lo vuole fare senza nessun problema, mentre prima era effettivamente decisamente più difficile. Quindi questo progresso e questa internazionalizzazione hanno portato una riduzione delle differenze tra i paesi, addirittura è stata sconfitta la povertà, nel senso che lo stesso Nazionale Unite hanno riconosciuto che per la prima volta, nei primi anni venti di questo secolo, gli obiettivi di riduzione della povertà che non erano mai stati raggiunti nel passato sono stati raggiunti e i poveri nel mondo, i poveri in valore assoluto sono diminuiti, ma è aumentata di molto quella che noi chiamiamo la povertà relativa, cioè le differenze tra i paesi, perché da un lato c'è stata con la globalizzazione un grosso spostamento delle capacità produttive verso i paesi più poveri, che quindi sono cresciuti, però questo ha significato per i paesi industrializzati di perdere alcune attività. Ora complessivamente i paesi industrializzati non hanno perso perché in realtà la loro crescita è rimasta relativamente forte, però non sono le stesse persone, le stesse aziende, le stesse località quelle che hanno riguadagnato posizione, si sono perse attività e quindi persone hanno perso il lavoro, aziende sono scomparse, villaggi e paesi sono diventati più poveri, nel contempo altre persone sono diventate più ricche, altre aziende sono nate, altre località sono diventate più ricche e questo ha generato un processo di diseguaglianza crescente e anche di rancore, perché è evidente che chi si arricchisce sta tranquillo, ma chi si impoverisce sta rabbia e questo è avvenuto per i processi di delocalizzazione della globalizzazione, ma anche è avvenuto per il progresso tecnico, perché il progresso tecnico spiazza alcune attività, mette a bando coloro che non riescono a stare all'altezza e a seguire il progresso tecnico che diventano più poveri, mentre diventano molto ma molto ricchi tutti coloro che riescono ad approfittare di questo progresso tecnico inizialmente. Questo nei paesi industriali, ma qualcosa di analogo è successo nei paesi emergenti, perché da loro lo sviluppo è stato molto forte e che ha veramente fatto uscire dalla povertà intere popolazioni, è anche vero che si è concentrato in alcune regioni, in alcune città, su alcune fasce della popolazione, mentre altre sono rimaste molto indietro. Questo sicuramente ha generato un effetto di rivolta contro questi processi che disintegravano interno ai paesi, tenendo anche presente il fatto che i governi dei singoli paesi con la globalizzazione hanno perso la capacità di intervento che avevano prima. Quando prima avevamo ciascuno la propria moneta e ciascuno il controllo dei propri confini evidentemente potevamo fare le nostre politiche, eravamo tutti più poveri, però ci sentivamo autonomi perché potevamo svalutare la nostra moneta, se disintegravamo farla potevamo rivalutarla, potevamo chiudere i nostri confini con Dazzi, potevamo aprirli. Adesso la politica di un governo invece dipende da quelle che sono alcune condizioni del mercato internazionale e quindi finisce per essere meno autonoma e siccome la gente vota per i governi per avere certi risultati, i governi non sono stati in grado di rispondere e anche questo ha portato a quel fenomeno del sovranismo di cui non solo l'Italia, ma tutto quanto il mondo in questo momento recente. Quindi questi sono i risultati, i risvolti negativi della globalizzazione, ma anche i motivi per cui adesso ci troviamo in una fase di deglobalizzazione. Sì, quello che tu hai messo in rilievo nell'ultima parte della tua risposta, oltre a diseguaglianze, la connessione molto forte tra economia e politica. Ricordo noi abbiamo pubblicato qualche tempo fa un saggio molto forte, con una tesi molto forte di Steven Levinsky e Daniel Ziblatt, sono due docenti di Harvard, un economista e uno storico, che ha come titolo Come muoiono le democrazie. La tesi del saggio, centrato su Trump, ma non solo, è che c'è un rischio molto forte che dentro al processo di globalizzazione o di economia di mercato, se vogliamo, si inneschi una spirale autoritaria, in cui le elite non sono consapevoli del fatto che stanno varcando una soglia. Oggi molte delle grandi nazioni che sono competitor nello scenario della globalizzazione sono retti da regimi autoritari. E qui c'è un secondo libro su cui ti volevo sollecitare, un libro scritto da Branko Milanovic. Branko Milanovic è un economista che ha teorizzato per primo le diseguaglianze, ha scritto un libro con la famosa curva dell'elefante, in cui si vedeva che appunto una parte di popolazione dell'India, della Cina, viene tolta, sottratta alla povertà, come dicevi tu, diventa sceto medio, mentre un'altra parte invece in Occidente di sceto medio si impoverisce. L'ultimo libro di Milanovic che noi abbiamo pubblicato si chiama Capitalismo contro capitalismo e il sottotitolo è La sfida che deciderà il nostro futuro. Cosa dice Milanovic in una battuta? Che oggi, negli ultimi decenni, si sono confrontati due capitalismi. Un capitalismo liberale, diciamo, in Occidente e un capitalismo politico in Oriente. Il capitalismo, se vogliamo, della Cina, ma si potrebbe anche dire per certi versi della Turchia, di Orban perfino e comunque forse anche di Putin. E quindi torniamo al tema della globalizzazione. Diciamo così, è indifferente se gli attori di questa globalizzazione, i paesi, i soggetti che la portano avanti hanno un regime politico liberale o invece hanno un regime autoritario e l'invasione della Russia non ci ha messo di fronte in maniera traumatica al fatto che non è affatto indifferente con chi scambiamo anche dal punto politico. Sì, ovviamente sarebbe preferibile, almeno da parte nostra, che la globalizzazione portasse anche democrazia in tutti quanti i paesi e abbiamo visto che quello che Milanovic chiama un capitalismo autoritario in realtà non solo non ha democrazia, ma diventa anche un pericolo per quanto riguarda il mondo, ma anche per la globalizzazione. Perché autoritarismo significa non rispetto delle regole, non rispetto delle regole perché si è autoritari quando si ha una capacità di essere al di sopra delle leggi e questo evidentemente cozza in maniera molto forte con quello che è la globalizzazione, perché la globalizzazione per essere una vera globalizzazione deve essere un rapporto in cui le regole prevalgono su quelle che sono le autorità che sono preposte in qualche maniera a farle applicare. Quindi da questo punto di vista è vero che una globalizzazione non può che avvenire fra paesi democratici se vogliamo che sia una vera globalizzazione. Però dobbiamo anche renderci conto che non siamo nel mondo dei desideri, siamo nel mondo della realtà e il mondo della realtà è fatto di paesi che ancora non hanno raggiunto livelli di democrazia simili ai nostri. Allora è qui quello che sta avvenendo in questo momento. Cosa fare di fronte a una situazione in questo genere? Negli anni passati noi abbiamo detto, beh, apriamoci con loro, cerchiamo di stabilire dei rapporti corretti e speriamo che la nostra influenza e l'apertura dei commerci possa portare questi paesi verso una maggiore democrazia. Oggi si sta andando verso una direzione opposta. Con alcuni paesi non è possibile avere dei rapporti corretti, facciamo quella che si chiama la globalizzazione solo fra paesi amici. La Yellen ha parlato di French Shoring, Janet Yellen che è il ministro del tesoro americano, per intendere dire che bisogna riportare le filiere di produzione verso quei paesi di quali ci si può affidare e quindi da questo punto di vista una globalizzazione che sia più regionale, più centrata su quelli che sono paesi che hanno alleanza. Non saprei dire se sono paesi democratici, diciamo paesi con i quali ci si può affidare perché magari si è fatto un accordo forte o perché sono dominati da una parte o dall'altra del mondo. Questa è la tendenza di una riglobalizzazione selettiva a blocchi, è meglio della precedente? Francamente non lo so, a cuore direi di no. Direi di no perché la speranza che la globalizzazione multilaterale potesse favorire anche processi di democrazia secondo me non è fallita, anche se ci troviamo la Russia di Putin e ci troviamo la Cina autoritaria. Non è fallita perché se pensiamo a che cos'era la Russia prima di Putin, cioè la Russia sovietica, e se pensiamo a cos'era la Cina di Mao Zedong, allora possiamo dire che la democrazia in questi paesi comunque è avanzata. Oggi c'è un'opposizione in Russia che comincia a manifestarsi e c'è una buona opposizione anche in Cina, malgrado la forte difficoltà che ha a manifestarsi in questo paese e abbiamo intellettuali cinesi e russi che sono usciti in maniera molto forte, che stanno fuori da questi paesi e che faranno opinione nei loro paesi. Quindi secondo me non è vero che la globalizzazione ha fallito nel favorire dei processi di democrazia. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza e ci vuole perseveranza in questo tipo di cose. Se ci chiudiamo in regioni omogenee il rischio forte è che un giorno cominciamo di nuovo a farci la guerra per sovrastare l'una con l'altra. È vero che l'invasione dell'Ucraina sembra smentire il fatto che la libertà dei commerci riduce i rischi di guerra, però dobbiamo anche riflettere che cosa sarebbe successo se non ci fosse stata questa globalizzazione. Oggi queste guerre che noi abbiamo sono ancora guerre locali, compresa quella dell'Ucraina, alla quale noi diamo supporto all'Ucraina evidentemente per tutta ragione, ma è ancora una guerra locale. Non siamo finiti in una guerra di carattere mondiale e io credo che questo dipenda anche dagli scambi internazionali che ci sono. Basti pensare che noi cerchiamo di combattere oggi l'invasione della Russia in Ucraina attraverso processi di deglobalizzazione, cioè utilizzando la finanza e gli scambi e isolando la Russia da questi fenomeni, pensando e sperando, e sono convinto che sicuramente avranno effetto e queste finiranno per indurre la Russia a più miti consigli. Ecco, se non avessimo avuto questi scambi non avremmo avuto neanche quest'arma per cercare di fermare Putin. Prendo la palla al balzo, ma sono efficaci queste sanzioni? Perché come tu sai c'è una grande discussione su questo, c'è chi dice che in realtà le sanzioni alla fine colpiscono il popolo russo, ma i consensi di Putin sembrano addirittura aumentare. Da una parte forse vorresti descriverci anche l'effetto congiunturale. Noi ci avviamo forse a una fase recessiva, addirittura di stagflazione, dice qualcuno, stagnazione e aumento dei prezzi, che colpirà soprattutto, secondo quello che ci dice anche la Banca Mondiale, i paesi più poveri, in cui aumenteranno la crisi del debito e che non riusciranno a pagarsi i propri debiti, ma che colpirà tutti. Quindi da una parte ci avviamo verso la recessione, dall'altra effettivamente queste sanzioni poi funzionano? Funzionano nel senso di colpire il vero bersaglio che è il regime di Putin? Io credo che le sanzioni funzionano se sono sanzioni temporanee e se sono minacciate come sanzioni temporanee. Cioè se a Putin si fa capire che qualora lui cambiasse politica noi torniamo a eliminare queste sanzioni, evidentemente secondo me queste possono avere un effetto, perché c'è uno scambio. Quello che mi preoccupa in questo momento è che molti cominciano a pensare che queste sanzioni non siano sanzioni, ma devono essere la normalità di domani e quindi che bisogna tagliare per sempre i legami con questo paese e se questo è vero allora non c'è più nessun vantaggio da parte della Russia di cambiare politica perché comunque rimarrebbe sotto queste sanzioni. Io credo che se queste sanzioni sono ottenute per qualche mese e si conferma che qualora si torni in una situazione di normalità vengono eliminate e queste possono avere un loro effetto. Certo, se si radicalizzano poi alla fine non hanno più nessun effetto, come tutte le cose, come tutte le armi a lungo andare non hanno più il loro effetto. Ecco, riprendiamo il tema che hai posto anche tu all'inizio, cioè della possibilità di in qualche modo fare di necessità virtù potremmo dire, cioè di prendere la criticità, l'imprevedibilità e costruire dei meccanismi, tu dicevi, di protezione. Ovviamente questi meccanismi sono interni a ciascun paese, quindi banalmente è stato detto durante il Covid che bisogna creare più posti letto negli ospedali per essere pronti ad accogliere le persone diciamo affette dal virus, ma sono anche europei. Tu hai citato il PNRR, sto sempre all'esempio del Covid, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dovrebbe attrezzarsi per coordinare le politiche di contrasto. Ecco, su questa falsa riga non pensi che dovremmo veramente fare un esercizio di immaginazione anche per quanto riguarda ad esempio l'ONU, cioè che senso ha il riarmo da una parte all'altra quando la principale agenzia internazionale è impotente? Non ci dovrebbe essere in realtà l'unico potere di sanzionamento lì? Certo ci sono dei vincoli, c'è una struttura col potere di veto della Russia fatta dalla Seconda Guerra Mondiale, però tu all'inizio della nuova normalità hai messo una frase bellissima di Max Weber che dice se non si tentasse sempre l'impossibile non si conseguirebbe mai il possibile. Allora governare la globalizzazione così forse è impossibile, però tentare per costruire almeno sistemi come si dice di governance più efficaci forse occorre in questa situazione o sbaglio? Assolutamente sì, io credo che sono questi i momenti in cui bisogna pensare a delle cose anche se sembrano impossibili da realizzare in questo momento, ma bisogna sicuramente darsi una direzione che è quella di carattere internazionale. L'Europa non basta, davanti a noi abbiamo rischi di pandemie anche future, abbiamo un sicuro rischio climatico, dobbiamo abbassare la temperatura del pianeta, dobbiamo convertire i sistemi energetici, dobbiamo badare alla riforestazione del pianeta. È possibile fare questo qui a livello nazionale o regionale? Sicuramente no, non è assolutamente possibile e quindi dobbiamo in qualche maniera riprendere la strada di dare una vitalità agli organismi internazionali, magari modificando alcune parti del loro statuto, però noi dobbiamo creare una sorta di governo mondiale che dipende da questi organismi. L'ONU è sicuramente l'organismo più importante, anche se molto denigrato, anche con i sistemi di veto, comunque resta un ambito importante nel quale si possa cercare di discutere. Ricordiamoci che quando la società delle nazioni venne abolita dopo la prima guerra mondiale praticamente poi siamo finiti nella seconda guerra mondiale, quindi teniamoci l'ONU anche con tutti quanti i suoi difetti. Dobbiamo fare degli organismi internazionali che sono l'Organismo della Sanità, l'UNESCO, la FAO, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario. Ognuno di questi qua deve darsi delle regole per riuscire in qualche maniera a raggiungere quelli che sono obiettivi di carattere generale e ricostituire la capacità di discussione all'interno di questi organismi. In questa maniera si può recuperare il rapporto fra i diversi paesi, aspettando che si liberalizzi e si torni a sistemi un po' più democratici di quelli che abbiamo avuto adesso. Dobbiamo guidare il mondo con le persone che ci sono, non è che possiamo immaginare soltanto di chiuderci in quelli che sono paesi nostri. Io credo che questo qui sia possibile, sia necessario e mi auguro che venga fatto. Ecco, vorrei farti un'ultima domanda. Nel Festival Internazionale di Economia che si sta per aprire a Torino abbiamo invitato, insieme a Tito Boeri, insieme al comitato editoriale che tu presiedi, alcuni dei maggiori economisti del mondo a ragionare su questi temi anche di cui abbiamo appena parlato. Il titolo del Festival è Merito, Diversità e Giustizia Sociale, li abbiamo collocati su uno scenario internazionale. Il Festival, come i migliori festival, sono luoghi dove ci si scambiano idee, dove si condividono le idee, si condivide il risultato delle ricerche degli economisti, ma non solo, con un pubblico ampio. Ecco, tu hai avuto la fortuna di essere insieme un economista, un analista, uno che ha fatto ricerca e anche però un uomo della pratica, come si dice, un uomo pragmatico che si è trovato a dover gestire, come dire, situazioni diverse, imprese, anche grandi imprese di vario tipo. Che influenza, nella tua esperienza, hanno le idee su chi poi si trova a prendere le decisioni? Sono due campi separati, sono due campi con contatti. Ricordi la famosa frase di Keynes che diceva che gli uomini al potere sono dei pazzi che odono echi, diciamo delle voci degli economisti defunti, i quali neanche sanno che esistevano ma sono condizionati da stereotipi elaborati magari qualche anno prima. Ecco, nella situazione in cui siamo, che tu hai appena descritto molto efficacemente, in cui di idee nuove abbiamo uno straordinario bisogno, perché dobbiamo costruire istituzioni nuove. Tu che affidamento fai sulla possibilità che le idee degli economisti non solo poi si traducano in opere, cioè che siano in qualche modo assunte dai politici, ma anche dagli imprenditori, dagli uomini che agiscono nelle istituzioni? Io credo che ci sia un rapporto bionivoco fra fatti e idee. Sicuramente molti fatti dipendono dalle idee che abbiamo diffuso e soprattutto quelle del passato, perché un'idea si diffonda presuppone tempo e quindi c'è una distanza di tempo anche a volte lungo fra il momento in cui l'idea viene posta e elaborata e il momento in cui si è diffusa e quindi viviamo tutti quanti un po' con le idee del passato. Ed è importante quindi oggi costruirne delle nuove perché avranno influenza nel futuro, se riusciamo in qualche maniera a darne delle basi razionali e a farle diffondere queste idee. Da questo punto di vista luoghi come il Festival dell'Economia, libri che vengono scritti, conferenze che vengono fatte, film che vengono proiettati, romanzi che vengono letti, sono tutti elementi forti per la costruzione di questa convinzione, senza però dimenticare che anche i fatti producono delle idee, nel senso che se a un certo punto avviene una pandemia, avviene una guerra, avere una crisi, questa influenza alcuni pensatori, i quali cominciano a diffondere delle idee in funzione di questa crisi. Quindi dobbiamo giocare su questo rimpallo che esiste tra idee e fatti e oggi cercare in qualche maniera di superare i fatti perché i fatti che ci stanno davanti sono fatti che portano a idee di guerra, a idee di difesa, a idee di chiudersi uno rispetto agli altri. Questi fatti in qualche maniera stanno producendo delle idee. Dobbiamo adesso produrre delle idee che siano capaci di superare anche questi fatti. E quindi per concludere ti chiedo di dirmi se riscriveresti oggi la frase che hai scritto nell'introduzione al tuo libro sulla nuova normalità quando scrivevi che, cito testualmente, schiacciati sui problemi del presente spesso tendiamo a proiettare la situazione che viviamo anche sul futuro che ci appare per forza di cose cupo e spaventoso. Non riusciamo a immaginare un futuro diverso da quello che viviamo, eppure non è così. La riscriveresti? Assolutamente sì, perché penso che dobbiamo superare questa miopia che è una miopia naturale, non la sto condannando, ma è normale che ciascuno cerchi di immaginare un futuro e lo immagino uguale al presente, mentre dobbiamo attraverso non solo la fantasia ma la conoscenza della storia, capire che le cose possono essere cambiate e quindi essere attori del cambiamento piuttosto che vittime di un passato. Bene, io ti ringrazio moltissimo, è stato veramente come sempre molto chiaro e molto illuminante nel senso che ci hai dato molti spunti per reagire anche alle difficoltà. Tutti quelli che conoscono un po' Innocenzo e Cipolletta sanno che da una parte Cipolletta è un analista che non risparmia nessuna difficoltà, ma dall'altra è anche un inguaribile ottimista, diciamo l'ottimismo della volontà, cioè di chi sa che poi le cose si possono cambiare appunto anche in base alle buone idee. Ti ringrazio molto e alla prossimo nostro incontro. Grazie, grazie a voi. Avete ascoltato Radar, un podcast degli editori La Terza. Post produzione e musica a cura di Matteo Portelli. Grazie a tutti.